Ascolteremo ora un intervento tenuto da Gabriele Di Stasio, saggista giornalista, esperto di intrattenimento turistico e ricercatore del fenomeno Torri di Uomini. Il nostro ospite ci parlerà del suo terzo libro della trilogia sulle Torri di Uomini, il caso Torri di Uomini in Basilicata, incentrato sulla rivalutazione delle Torri di Uomini umane in questa regione, ma comunque con un respiro internazionale, intesi come tradizione glocale e bene immateriale che trasmette saperi e valori alle nuove generazioni attraverso i significati in essere acchiusi. La libertà, il riscatto, l'ammonimento ai potenti di amministrare correttamente la cosa pubblica. Vi ricordo che potrete assistere alle spettacolari Torri di Uomini della Basilicata oggi alle 16.15 e alle 17.30 in Piazza delle Erbe e Castels Catalani sempre oggi alle 12.30 e alle 18.30 sempre in Piazza delle Erbe. Lasciamo quindi la parola a Gabriele Di Stasio. Grazie mille, grazie per la presentazione, sempre molto gentile. Parliamo oggi del caso Torri di Uomini in Basilicata. È molto difficile riuscire a rivalutare una tradizione popolare, è molto difficile riuscire a scoprire, riscoprire e rivalutare anche in chiave nazionale ed internazionale un bene immateriale e questo lo si deve sempre a persone che si impegnano fortemente, spesso in modo gratuito, affinché le loro tradizioni culturali diventino un patrimonio non solo della loro comunità ma vengano condivise anche con altre comunità. E questo è il caso Torri di Uomini in Basilicata, il terzo libro della mia personale trilogia sui castelli umani che sono un particolare fenomeno culturale dell'umanità che ha sempre caratterizzato l'umanità nelle differenti epoche storiche. Abbiamo riscoperto in Basilicata attraverso l'impegno di diverse associazioni culturali quelli che sono i cugini culturali del fenomeno castels catalano e che come vedremo non sono imparentati solo con la Catalogna ma hanno anche dei parenti come Torri di Uomini, come Castelli Umani in India, in Marocco, a Venezia nel 1650 fino al 1800 si avevano delle Torri di Uomini molto alte, a Ferrazzano in Molise, Castellino del Biferno, a Scalea in provincia di Cosenza in Calabria, a Brindisi di Montagna, a Melfirsina e Ferrandina, vediamolo meglio. La ricerca scaturisce sempre dall'impegno collettivo, l'impegno collettivo nel caso del Pizzicanto, dello Scaricavascio e delle Torri di Uomini Lucane è stato messo in campo da un forte sentimento identitario, quindi è un fenomeno che scaturisce da una forte divulgazione identitaria, dalla forte voglia di divulgare la propria identità, ci vogliono passione e impegno per la propria terra, ci vuole soprattutto mettersi in discussione, il mettersi in discussione anche rispetto alle critiche che possono alcune volte derivare dalla comunità che assiste a questa rivalutazione, bisogna ritrovare il proprio senso di appartenenza e connettere la propria identità a quella di altri castellers lucani, come è stato il caso delle persone di Irsina, nigeriani, cinesi, perché esistono anche in Cina, cileni, marocchini, greci, montenegrini, curdi e indiani, vediamo anche dalle prossime foto i castells e la loro diffusione, come possa essere uniforme un po' in tutto il mondo. L'obiettivo di una strategia di rivalorizzazione culturale è essenzialmente esprimere liberamente sapere i valori della propria comunità, aprendola così alle culture altre. La foto che vedete alla destra, qui a destra, è proprio l'interno della torre di uomini lucana, un pizzicanto di Irsina, mentre quella che vedete a sinistra è una torre di uomini catalana. Poi vedremo le differenze, perché le torri di uomini italiane sono rimaste più bassine e quelle invece catalane si sono evolute in altezza. La differenza sostanziale è che le piramidi catalane sono rimaste poi ferme, si originano da un ballo che terminava con torrette di poca altezza, però poi questo ballo si è sostanzialmente paralizzato, fermato e quindi le torri si sono potute evolvere in altezza, mentre in Basilicata sono rimaste un ballo, una danza e quindi le torri sono in tondo su se stesse e raggiungevano anticamente, come vedremo da un filmato rarissimo del 1960 ripreso dalle cineteche Rai, raggiungevano anticamente anche quattro piani d'altezza. Il significato nascosto del pizzicanto, che sono le torri che oggi grazie alla prologo d'Irsina abbiamo qui al Tocatì. Le torri di uomini sono un patrimonio della Basilicata, da valorizzare come si sta facendo ad Irsina e da riscoprire come nelle potenzialità di Melfi, Brindisi di Montagna e Ferrandina in provincia di Matera, quest'ultima. Il significato di tali costruzioni è insito in ognuno di noi, sopito dentro i nostri istinti primordiali, nascosto nella voglia del popolo lucano in questo caso, ma anche come vedremo poi di altri popoli, di dire ciò che fu verso chi stava da sopra, è una satira. Antico mezzo di espressione della gente lucana, le torri di uomini rappresentano costruzioni forti nella loro instabilità, costruzioni in cui i mattoni sono persone, uomini con la loro identità, miseria e paura esistenziale. La nuova geografia delle torri umane, secondo le ultime ricerche in Basilicata, si estende anche a Brindisi di Montagna in provincia di Potenza, a Genzano di Lucania in provincia di Potenza e a Maratea in provincia sempre di Potenza, oltre a Melfi, Irsina e Ferrandina di cui già si aveva conoscenza alcuni anni fa. Abbiamo detto che sono presenti in Italia anche a Ferrazzano, Castellino del Biferno, a Scalea, a Pricena in provincia di Foggia, a Napoli erano presenti anticamente e a Venezia. A Venezia avete delle rare immagini sotto che sono le forze d'Ercole, che sono appunto queste tre immagini storiche risalenti al 1600 e 1700 che ritraggono i castelli umani di Venezia. Qual è la differenza tra i castelli umani di Venezia antichi e quelli attuali? Come vedete i castelli umani di Venezia si intervallavano fra un piano umano e l'altro da travi di legno, perché dovete sapere che questi castelli umani a Venezia venivano fatti sull'acqua ed erano veramente molto difficili da fare. Invece nella foto qua sopra avete i castelli di Castellino del Biferno in Molise, arrivano a tre piani, girano in tondo su se stessi e si caratterizzano per avere al centro una pertica di legno a cui poi si mantengono i vari mattoni umani che le compongono. Le torri umani lucane si chiamano invece, la Basilicata è la regione che ha più torri di uomini in tutta Italia, abbiamo questo piccolo record, perché si facevano a Melfi ed erano detti Oscar Cavascio e si facevano in occasione della Tredicina di Sant'Antonio. Upezandò di Irsina che c'è quest'anno presente al Tocatì e si attua in occasione della Madonna della Pietà che è l'ultima domenica di maggio e qui abbiamo Raffaele e Lina che ce lo possono confermare della Prologo di Irsina. Poi c'è Upezandò di Ferrandina che si faceva anche a Sant'Antonio, il giorno di Sant'Antonio l'area Lò di Brindisi di Montagna, questa è una delle ultime scoperte dovute anche al professor Allegretti di Brindisi di Montagna che collabora con le mie ricerche e poi c'è la Torre di Genzano di Lucania che si faceva il 25 marzo durante Maria Santissima delle Grazie a Genzano di Lucania e l'abbiamo scoperta grazie al romanzo storico di un genzanese doc che purtroppo è deceduto diverse decine di anni fa e dal suo romanzo Sotto l'arco di Eros Ettore Lorito ci ha rivelato la presenza di Torri di Uomini anche a Genzano. Però andando a vedere un film molto famoso nelle anni 60 che è La Vedovella di Silvio Siano girato nel 1964 a Maratea scopriamo che anche lì è presente una torre umana in una scena famosa del film, una torre umana che gira in tondo su se stessa. Però secondo le mie ricerche quest'ultima torre umana è stata più che altro dovuta alle ricerche che Siano fece delle tradizioni che c'erano fra Calabria e Basilicata e si è rifatta ad una tradizione che è appunto quella di Scalea che confina quasi con Maratea. Per cui si decise, Siano nel film decise di mettere fra i giochi tradizionali di quella zona del sud Italia, decise di inserirci la torre umana di Scalea, provincia di Cosenza perché non si trovano attualmente a Maratea delle fonti che indichino che il gioco era fatto lì a Maratea. Quali sono le componenti principali di una riscoperta e di una valorizzazione di un fenomeno identitario che è tipicamente appartenente ad un dato luogo fisico nel caso dello scaricavascio della Basilicata? Prima di tutto c'è la ricerca, quindi per rivalutare il nostro patrimonio immateriale come dimostra anche il Tocatì c'è bisogno di molta ricerca, una ricerca seria, una ricerca alcune volte stenuante perché le fonti documentarie spesso sono orali, soprattutto nel nostro patrimonio immateriale che abbiamo in Italia vastissimo, quindi bisogna scrivere libri, articoli e ricerche sul fenomeno, bisogna coinvolgere attraverso queste ricerche così come è avvenuto ad Irsina le comunità, attraverso le associazioni culturali in primis, quindi la comunità, l'associazionismo culturale. Subito dopo il terzo step e non è il primo, attenzione, ma è il terzo, coinvolgere attraverso le comunità e l'associazionismo culturale le istituzioni, quindi l'eventuale assessore alla cultura o il sindaco. Come vedremo in Basilicata abbiamo coinvolto sia i sindaci e gli assessori alla cultura dei comuni, attraverso le associazioni culturali che si sono mosse per prime grazie alla scrittura del primo libro sulle torri di uomini e poi in un secondo momento abbiamo coinvolto i media, il web e da qui poi sono nate le relazioni con la Catalogna e con Verona. Ovviamente c'è bisogno di anche ottimi PR, public relations e organizzatori di eventi che poi mettano in pratica quello che è stato ricercato e quello che è stato strutturato come concept dalla comunità e dalle istituzioni. L'interesse e la ricerca in Basilicata sono state effettuate dal mio primo viaggio nel 1998 in Catalogna nel quale svolse un Erasmus, al mio ritorno dopo il progetto Erasmus, mi accorse che in Basilicata esistevano, io che sono studente di antropologia, che ho studiato di antropologia, mi accorse che in Basilicata esistevano le torri umane. A Dirsina e poi a Ferrandina e poi a Melfi e poi a Brindisi e tutto viene da sé. Alla fine è uscita fuori una trilogia, il secondo dei tre libri è questo, Castelli, Castelli umani, Castels, dove ho spiegato le relazioni che c'erano fra le torri di uomini lucane e i Castels catalani e su questa cosa ho cercato di coinvolgere anche il Ministero dei beni culturali che ci ha appoggiato e abbiamo avuto appunto questa presentazione presso il Museo archeologico di Potenza grazie al Ministero dei beni culturali e c'è stata quindi l'amplificazione ma anche la vallo ufficiale dello Stato italiano a questa ricerca delle torri di uomini che come vedremo ha creato poi dei ponti con in questo caso lo scrittore più famoso di Castellers catalani Xavier Brotons ha letto con interesse la prima ricerca che si intitolava Torri di uomini in Basilicata e attraverso i media abbiamo creato questo collegamento appunto fra le torri di uomini inizialmente lucane e quelle catalane poi vedremo cosa è successo c'è stato il coinvolgimento della comunità e delle istituzioni intelligenti vediamo se parte no qui dovrebbe esserci un video però non parte va bene non importa e comunque abbiamo poi nella immagine di sotto a destra vedete l'audience di Brindisi di Montagna perché attraverso poi il sindaco e le istituzioni appunto di Brindisi di Montagna in questo caso subito dopo aver letto il libro hanno dimostrato il proprio interesse hanno dimostrato di tenere ad un fenomeno culturale di cui hanno analizzato le potenzialità e le hanno sposate e abbiamo iniziato a fare presentazioni anche in altri luoghi che non fossero l'iniziale Irsina e Melfi da dove appunto è partita la rivalutazione il rapporto con i giornali dopo la presentazione del libro nel dicembre 2007 avvenuta nel Teatro Stabile di Potenza si sono interessate al libro la Rai TV, la Nuova TV, Web TV Locali Lucane, la Gazzetta del Mezzogiorno con Afra Fanizzi, la Nuova del Sud, il quotidiano con l'antropologo Franco Cacciatore, Mimmo Don Vito e Ranna De Meo, Marianna Flumero, Constro Senso Basilicata con gli articoli di Giovanna La Capra il Lucano Magazine con Margherita Torrio delle quali abbiamo l'immagine e la rivista nazionale Tangram dedicata ai giochi antichi con il ricercatore Donato Allegretti dal punto di vista internazionale invece hanno parlato della trilogia della ricerca delle Tori di Uomini e Lucane, Castels, il mensile catalano Castels che è il mensile più apprezzato di Castelli Umani della Catalogna con Santi Terrazza e i quotidiani L'Avanguardia con Raquel Sanz e il diario di Tarragona con Gemma Casalè e poi i blog catalani di Xavier Broton, Jordi Bertrand e Ivan Rodon Tenas queste immagini sono alcune delle immagini degli articoli usciti su giornali internazionali abbiamo avuto anche interviste in radio come Radio 2 Rai a cura di Timi Suara Pinto Iso Radio sempre di Timi Suara Pinto e Radio Hit 103 nel programma La Tertuglia di Gemma Casalè Ancora la presentazione del saggio è andata sul TG Rai Basilicata a cura di Antonella Pallante sul settimanale TGR delle ore 12 a cura sempre di Antonella Pallante e poi il matrimonio fra virgolette con il Tocatì di Verona e il Pizzicanto ha dato delle belle soddisfazioni perché ha portato la nostra tradizione popolare sul Rai 2 con costume società e sul TG1 su alcuni servizi sul TG1 e particolarmente interessante è stata il settimanale TGR ore 12 di Antonella Pallante ad Irsina perché grazie proprio alla presenza della troupe Rai siamo riusciti a coinvolgere inizialmente alcuni anni fa proprio le istituzioni di Irsina e ovviamente grazie all'aiuto che poi ci hanno dato le associazioni culturali del luogo fra un po' vedremo chi sono stati i fautori di questa rivalutazione eccoci qua abbiamo detto che uno degli elementi principali della rivalutazione del bene immateriale e delle nostre tradizioni immateriali sono proprio il coinvolgimento, la base e la ricerca e poi la ricerca deve essere eletta, adottata e fatta propria dalle associazioni culturali che in questo modo possono veicolarla alle istituzioni dopo le quali arrivano i media, le tv e alla fine nella parte finale c'è l'organizzazione dell'evento la prima cosa che abbiamo fatto e la prima cosa che ho fatto subito dopo aver scritto il primo libro è stato coinvolgere la Morra di Irsina che è un'associazione culturale appunto che ha preso subito sotto la propria ala il pizzicantò Terra di Sud che è un'altra associazione di Irsina che ha organizzato il convegno internazionale sui castelli umani che ci ha dato modo di coinvolgere anche i catalani, la prologo di Irsina che è stata anche presente nella ricostruzione di queste torri di uomini lucane, l'associazione Torri Umane che è nata in seguito a questa rivalutazione alcuni anni fa e che ha messo in campo il festival internazionale di Torri Umane e poi questo a Irsina, ICH NET che è il comitato per la promozione del patrimonio e materiali presso l'UNESCO con sede a Roma con il suo presidente Giuseppe Torre che abbiamo l'opportunità e anche l'onore che è proprio potentino, lucano e la cupola verde di Ferrandina con il suo presidente Nicola Pavese che ha appunto permesso la presentazione del saggio a Ferrandina laddove la tradizione andò via più di cento anni fa per cui c'è questa voglia di riappropriazione della propria identità della comunità locale che fa sì che appunto si abbia poi in pratica la messa in atto dell'evento attraverso i media e con il coinvolgimento dell'istituzione, alla base c'è il coinvolgimento dell'associazionismo culturale a cui ovviamente ringrazio tanto e abbiamo qua anche l'inaugurrato della Prologo d'Irsina e dell'associazione La Morra istituzione Torri di Uomini, abbiamo coinvolto il Parlamento di Catalogna addirittura il presidente del Parlamento catalano Ernest Benaghi Pasqual ha mandato un messaggio, ha lanciato il suo benestare nel gemellaggio che si era creato nel rapporto fra le Torri di Uomini Lucane e i Castels Catalani il sindaco Domenico Amenta del comune d'Irsina ha fatto la propria parte la regione Basilicata con l'assessore alla cultura Antonio Utilio il comune di Melfi con l'assessore alla cultura Giuseppina Carbone il comune di Sala Consilina che ha organizzato il convegno bene immateriale metodi di salvaguardia alcuni anni fa il comune di Brindisi di Montagna con il sindaco Nicola Allegretti avete di sotto la foto del convegno poi la provincia di Matera, il comune di Verona, la regione Veneto il comune di Valse, Tarragona, Spagna l'UNESCO e il ministero dei beni e le attività culturali la fusione Catalogna Basilicata si ha in questa foto è stato bellissimo quando in rosso vedete i Castelliers Catalani con la loro tipica divisa di origine contadina e in bianco invece vedete i Castelliers Lucani questa è una foto molto significativa perché è la rappresentazione di quella che io chiamo la globalizzazione positiva del folklore internazionale noi diamo sempre un valore negativo a quella che è la globalizzazione oggi invece le torri di uomini e i Castells rappresentano e vedremo nella prossima slide il perché l'unione di culture fra di loro estremamente differenti attraverso l'unico obiettivo comune dell'elevazione al punto più alto possibile anche contro le stesse leggi fisiche come vedete in India sono presenti le torri di uomini che hanno un aspetto molto simile a quello delle torri di uomini che anticamente si facevano in Italia e che attualmente si fanno ad Irsina in provincia di Matera in Basilicata in Italia nella foto d'epoca vedete che le torri umane erano usate dai bersaglieri per fare degli esercizi ginnici arrivavano a quattro piani di altezza in India invece nella foto spettacolare che vedete purtroppo anche una caduta che come potete immaginare da quell'altezza può provocare rovinose ferite tant'è vero che i castells catalani che è il castello umano che vedete sotto a destra i castelliers catalani sono tutti quanti assicurati prima di iniziare ad essere mattoni umani del castello dei castelli più o meno alti che possono fare lì in Catalogna addirittura ultimamente purtroppo l'immagine sopra a destra quella irachena è un'immagine che io ho riflettuto prima di inserire ma l'immagine che vedete è paradossalmente una torre umana dei soldati irachieni che stavano festeggiando la presa di una città irachena pochi mesi fa anche lì si festeggia con le torri di uomini alcuni anni fa io incontrai ad un festival di cinema in Basilicata Ram De Vinieni era un regista indoamericano che stava facendo delle ricerche e stava trattando del cinema stava facendo dei seminari sul cinema indiano durante un festival appunto potentino quindi era uno di quei seminari di quegli eventi satelliti legati al festival io parlai lui e dissi lui che c'erano delle torri di uomini molto alte che è quella che vedete al centro in basso indiane e che c'era un legame fra India Marocco Catalogna e Italia che era dettato dalle torri umane bene questo regista il nome Ram De Vinieni rimase talmente affascinato da questo legame che decise di farci un docufilm un documentario quindi si mese in cammino per il mondo e documentò praticamente le torri di uomini le torri di uomini di gran parte del mondo e arrivò fino a Dirsina arrivò fino a Dirsina il documentario si intitola The Human Tower ha girato i festival di cinema più importanti del mondo e lo vediamo in azione a Dirsina mentre stava riprendendo la piccola ma molto molto significativa torre umana abbiamo portato le torri umane e i castels catalani e questo legame che unisce l'Italia l'India il Marocco la Catalogna addirittura la Cina il Cile e abbiamo visto anche in un certo qual modo l'Iraq l'abbiamo portato nel cinema lo abbiamo come dire sacralizzato nel mondo del cinema questa è la mia conclusione è una conclusione che è un po' lunga ma vorrei che ascoltaste perché rappresenta lo spirito di noi operatori lo spirito con cui operiamo noi che cerchiamo di rivalutare i beni materiali italiani spesso si riconosce alle nostre regioni come il Veneto come la Basilicata la Catalogna il merito di custodire una quantità immensa di monumenti reperti opere d'arte ereditati dal passato ma ignoriamo che esse preservano un patrimonio ben più importante di quello materiale la capacità di produrre cultura creatività saperi abilità e valori ciò accade non solo nell'ambito artistico delle cosiddette industrie culturali e creative ma anche in un particolare contesto dell'espressività culturale che a noi piace definire cultura vivente ovvero l'attitudine nella capacità di persone comuni come noi gruppi e intere comunità di produrre cultura mantenendo la propria identità e dando continuità a progetti di vita collettiva come il Tocatì l'importanza di questo patrimonio culturale è talmente rilevante da aver meritato il riconoscimento UNESCO questo organismo dopo decenni di dibattiti internazionali ha stabilito che il patrimonio culturale immateriale fra i quali i castelli umani catalani rappresenta a tutti gli effetti una delle più alte espressioni creative dell'umanità perché più di quanto non si è in grado di fare il patrimonio materiale ha il merito di fornire alle comunità identità e continuità promuovendo rispetto per la diversità culturale e la creatività umana queste riflessioni hanno introdotto concetti rivoluzionari per esempio mettono sullo stesso piano le espressioni culturali delle classi che in passato erano definiti egemoni occolte con quelle delle classi subalterne riconoscono a quelli che sono i beni viventi e ai castelli umani dunque il potere di salvaguardare l'identità e la diversità culturale una risorsa preziosa che oggi è considerata la base della competitività e della sostenibilità ambientale e sociale la capacità di essere creativi e innovativi l'UNESCO ha sottoscritto una convenzione dalla quale è chiaro che ciò che conta davvero non è museificare il patrimonio culturale ma trasmetterlo alle generazioni presenti e future tutto ciò ha implicazioni straordinarie sia sul piano scientifico che sociale ed economico si passa dalla tutela delle espressioni culturali alla salvaguardia della capacità delle persone dei gruppi e delle comunità di esprimersi sotto il profilo culturale comunicando genialità e creatività ad esempio le attuali comunità catalana e lucana hanno ricevuto dalle passate generazioni le torri di uomini ne hanno possesso ma soprattutto la responsabilità di gestirli e trasmettere alle generazioni future ma a questo punto dobbiamo fare autocritica alcune volte noi tutti per ignoranza o superbia consideriamo bizzarre ed esotiche le culture diverse dalle nostre tuttavia oggi dobbiamo fare conti con il loro potere economico che in un futuro molto prossimo potrebbe diventare anche potere culturale la conseguenza di ciò sarebbe quella di indebolire uno dei principali motori della creatività umana cioè la diversità ecco perché è importante salvaguardare le espressioni culturali solo salvaguardando la diversità tuteleremo la nostra capacità di continuare ad innovare i castelli umani catalani eletti dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità dimostrano che contrariamente a quanto comunemente si crede i fenomeni culturali immateriali non sono affatto statici ma mutano e si evolvono continuamente nel corso del tempo al mutare dell'assetto della società dei sistemi di produzione delle norme che regolamentano i rapporti tra le persone delle evoluzioni ideologiche e tecnologiche inoltre essendo la loro trasmissione basata sulla memorizzazione di parole e gesti è molto frequente l'introduzione spontanea di innovazioni e miglioramenti ciò che distingue questo particolare modo di trasmettere informalmente valori e saperi è che la trasmissione avviene nell'ambito di momenti di vita comunitaria di contatto diretto tra persone pertanto la trasmissione di saperi e valori ha la caratteristica della democraticità allora usiamo più spesso il termine cultura vivente per indicare questo patrimonio che muta evolve e si adatta proprio come un organismo vivo contestualizzando nell'attualità il fenomeno i meccanismi di trasmissione di questi saperi della tradizione orale sono molto simili a quelli che si stanno verificando oggi all'interno per esempio di facebook dei social network che non sono altro che spazi culturali dove l'informazione fluisce liberamente e dove oggi l'individuo può dare il suo piccolo o grande contributo senza distinzione di razza sesso religione o colore della pelle oggi dunque le torri di uomini non sono più considerate espressioni culturali minori infatti con l'atto di ratifica della convenzione unesco del 2003 anche lo stato italiano riconosce a queste particolari forme di espressività un'elevata dignità culturale eppure in questo settore le politiche culturali permettetemi una piccola critica italiane sono spesso assenti e le case in cui si realizzano sono quasi sempre finalizzate al sostegno di confuse politiche di sviluppo del settore turistico magari enogastronomico oppure industrial culturale anche i medi italiani contribuiscono a generare un po' di confusione in genere l'informazione giornalistica scientifica ignora quasi del tutto il patrimonio culturale e materiale e quando se ne occupa tende a concentrarsi sugli aspetti più folclorici o sulle innumerevoli candidature spesso fantasiose e inverosimili che da più parti si annunciano ormai a getto continuo mentre il popolo catalano ha ottenuto nel 2010 una grandissima soddisfazione che è quella di avere eletto i castells umani la loro particolare identità come patrimonio mondiale dell'umanità noi cosa facciamo? Noi cerchiamo di candidare a patrimonio mondiale dell'umanità la pizza cerchiamo di candidare a patrimonio mondiale dell'umanità la dieta mediterranea che appartiene a Grecia che appartiene a Spagna che appartiene al sud Italia alla parte costiera dell'Italia allora questo non è il modo giusto di andare avanti la pizza è già patrimonio mondiale dell'umanità la dieta mediterranea è già patrimonio mondiale dell'umanità ma attenzione i castells catalani erano un patrimonio identitario culturale catalano e sono diventati adesso da catalani a patrimonio mondiale italiano e dell'umanità è in questo senso che noi dobbiamo dare le nostre identità culturali all'UNESCO le nostre candidature possiamo candidare l'arpa di Vigiano possiamo candidare i castells umani italiani che anticamente venivano fatti anche a Venezia ma attenzione ad essere leggeri a farci prendere dalla moda la pizza la dieta mediterranea l'Italia patrimonio mondiale dell'umanità l'UNESCO deve sottolineare i valori identitari culturali locali per farli diventare patrimonio dell'umanità e questo è il senso delle candidature UNESCO viva i castells viva i castelli umani italiani lucani e mondiali grazie grazie grazie